Arriba i sogni! Piano! Piano! Guarda questo! Che è questo! Mi piacciono moltissimo! Mi piacciono! Oh no! Mi piacciono! Quazia, te lo può permettere, credi? E ti assicuro che non fa più che stessa di queste! Te lo dico perché la conosco molto bene! Le stesse! Scusa, me lo capis! Quazia, si preoccupa molto del giudizio della gente e non farà vedere la figura mandandosi in giro con dei abiti vecchi e uguali! Adesso non capisci che cosa vuole di loro! L'ho finito a me! Io, invece, lo condico più che quali ma ti prometto che mi vuole bene! Piano! Quazia! Quazia, è vero! ma in realtà non ci sono più cose che non hai mai avuto gli amici così belli e sono molto felici! Che la sia un giacchio regalo. Ma chi è brava! Puoi ritornare così è veramente felice, vero? Proprio così hai dubbinato! Grazie a tutti.